Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'ultima sfida di tempesta che richiede di usare un emote nell'occhio del ciclone. Cioè praticamente quando la tempesta si restringe e forma una circonferenza, voi nei panni di tempesta, se avete completato le precedenti sfide, dovete raggiungere il centro della tempesta ed usare l'emote di tempesta. Non posso dirvi il luogo perché cambia sempre ovviamente. A seconda della circonferenza dovete regarvi sul posto, quindi dovete raggiungere esattamente il centro e lì troverete l'emote di tempesta che vi permetterà di completare la sfida. Quindi assicuratevi di raggiungere il centro. Potete farlo in qualsiasi modalità, quindi l'importante è usare tempesta. Quindi raggiungere il livello 60, sbloccare tempesta, sbloccare le sfide, completare le prime due sfide che vi ho mostrato in precedenza e poi vi recate nell'occhio del ciclone, come si suol dire. Vedete? Lì c'è l'emote di tempesta pronta ad attendermi, quindi fate questo e sbloccherete la sfida, o meglio la completerete.